Un'antra miniera. Passato mezzo secolo, muo' andavo a scegliere un minerale più prezioso. Sarò un viaggio lungo e faticoso, però vedrai che insieme ci arrivano. Avanti, senza passare il richiamo del smover, il desiderio dello sposo d'assaporà un abbraccio amoroso e dia alla sposa sua amore tale. D'accordo, sono soltanto 51, e la voglia a correre e a chiappare davanti. Ma chi ci mette prescia? E' nessuno. Allora, così via, tenevo duro che la miniera forse è un po' distante, ma ci avevo davanti un bel futuro.